Buonasera a tutti, spero che riusciate a sentirmi bene. Grazie all'Accademia di avermi invitato a chiacchierare un po' di Carol, grazie a voi di aver multato via qualche ora per venire qui a sentire queste divagazioni caroliane, perché io, purtroppo, per fortuna, Carol è un argomento estremamente vasto, interessante, labirintico, per cui anche stavolta mi sono un pochettino perso, quindi piuttosto non riuscirò assolutamente a fare nulla di sistematico, farò una chiacchierata piacevole. Carol, dunque, io credo che questa sia una cosa che è capitata a me, sospetto che sia capitata alla maggior parte di voi quando hanno cominciato a leggere Carol, hanno sentito parlare di lui, cioè il fatto che fosse uno scrittore di, diciamo, letteratura fantastica, e dall'altra parte fosse un matematico. Quindi l'idea generale che uno si fa, e questa cosa viene ripetuta, è che fosse una specie di personalità scissa, cioè da una parte c'era rigoroso, dottor Jekyll e mister Hyde, cioè da una parte di giorno faceva il matematico rigoroso, preciso, poi arrivava a casa e si liberava, liberava di colpo la fantasia, scriveva delle cose abbastanza folli. In realtà la cosa, quando uno comincia un pochettino a esaminare Carol, si sfalda immediatamente, cioè è vero esattamente il contrario, cioè Carol è una personalità profondamente integrata, con migliaia di interessi, di aspetti diversi, però questi aspetti sono tutti molto collegati fra di loro. Adesso quello che vorrei riuscire a fare in questa chiacchierata che farò stasera, non è tanto di esaminare in dettaglio quello che ha fatto Carol riguardo alla matematica, quanto di collegare gli aspetti matematici che si trovano in Alice con altre cose che ha fatto Carol, narrative o di logica, in maniera da far vedere che ci sono dei rimandi continui ad altre opere, ad altre questioni di matematica della sua epoca. Queste sono delle copertine di alcuni testi scritti da matematici, da fisici. Carol è molto amato dei matematici e da fisici, filosofi, logici soprattutto. Si potrebbe fare una conferenza anche solo elencando le citazioni che vengono fatte di quest'autore in vari libri. E questo non è casuale, perché si può leggere Alice nel Paese delle Meraviglie, sul seguito attraverso lo specchio, come un testo, è una delle chiavi di lettura, non è ovviamente l'unica e forse non è neanche la più importante, comunque come un testo di, tra virgolette, logica. Io credo che il primo forse che ha fatto questa osservazione è stato Chesterton nel suo articolo sul non-sense, in cui diceva fra le altre cose, diceva, ma abbiamo l'impressione che effettivamente questo mondo in cui si avventura Alice sia un posto in cui ci sono dei matematici che sono in vacanza e si mettono così a divagare, a dire delle sciocchezze di tono logico, che sono dei matematici e dei teologi travestiti. È un'osservazione abbastanza vera, c'è molto di vero in questo. Di fatto adesso esaminando un pochettino Alice vedremo che ci sono parecchi motivi di pensare che questo sia vero. Io qui ho messo una cosa che non è proprio una biografia di Carroll, ma è un fissare qualche data, soprattutto rispetto alla matematica. Lui nasce nel 1832, muore nel 1898, ha una carriera di tipo accademico molto lineare, è sempre stato un ottimo studente sia sui classici che sulla matematica. Suo padre era già un buon matematico, lui si racconta che già a otto anni, dieci anni, insistesse, rompesse un po' le scatole al padre per sapere cos'erano i logaritmi. Si laurea ad Oxford e prima ancora di laurearsi ottiene una studentship, cioè ottiene sostanzialmente una borsa di studio, perché era forse lo studente migliore, nel senso di risultati di voti alti. E a 25 anni, credo, diventa, adesso dovrei fare un attimo di calcoli, ma la aritmetica in questo momento mi scappa un po', diventa lecturer, che sarebbe una cosa che è un po' difficile da definire, non proprio l'equivalente di un professore universitario, universitario, diciamo, una specie di assistentato su cose di matematica, quello che doveva insegnare lui era matematica elementare, noi non dobbiamo pensare a una persona che insegnasse matematica elevata, lui non si è mai avventurato sulla matematica elevata, e aveva anche un pesante carico didattico, lui insegnava anche sette ore al giorno, e di questo si lamentava, insomma, giustamente. Ha scritto diversi testi di matematica, diversi testi di logica, io vi faccio notare, tra l'altro, che i testi di matematica sono più verso l'inizio della sua carriera, i testi di logica sono più verso la fine, e questo ha qualche cosa di interessante. Questa è una prima citazione di Alice, cioè Bertolomeu Price era il suo professore di matematica, era un matematico all'epoca famoso, un buon esperto di didattica, che ha scritto dei trattatoni scritti molto bene, con poco di originale, e lui veniva soprannominato The Bat, il pipistrello, un po' per il nome, un po' per il fatto che quando parlava di matematica volava sopra l'audience. E allora c'è questa poesiola in Alice, che è una presa in giro di Twinkle Twinkle Little Star, Twinkle Twinkle Little Bat, ed è praticamente una citazione del suo insegnante. Cosa ha scritto Carol Dodson? Ha scritto di tutto, c'è una bibliografia mostruosa, che copre una quantità di, un'enormità di titoli, è persino difficile orientarsi a dire esattamente di che cosa parla. Ha scritto di matematica, ha scritto romanzi, ha scritto delle cose intermedie, ha scritto testi su come memorizzare le formule di matematica, ha scritto come adattare Shakespeare per le ragazzine, perché in Shakespeare ci sono delle cose, un pochettino osè, per cui bisognava troncare, come scrivere lettere, eccetera, eccetera. Tanto per dare un'idea che scrivesse le cose strane, c'è un suo testo che è contemporaneo alla Alice, che è di Dynamics of a Particle. Questa cosa qui è assolutamente, è una follia dal nostro punto di vista. È una presa in giro della politica, scritto con un secondo, seguendo lo stile degli elementi di Euclide. E praticamente, visto al giorno d'oggi, è una sequenza di battutacce, tipo, non so, quando due, invece di dire, quando due rette si incontrano, formano, e formano angoli uguali, uguali, formano quattro angoli retti, lui diceva, quando due politici si incontrano, si mettono d'accordo. Una serie di battute a questo modo. Quasi totalmente intraducibile, e dà un po' un'idea del fatto che Shakespeare, che, scusate, già ho letto Shakespeare, che Carroll veramente scrivesse delle cose strane. Allora, che tipo di matematica e di logica troviamo in Alice nel Paese delle Meraviglie? Beh, io faccio qualche esempio. Questi esempi sono per far vedere che c'è tanta matematica e tanta logica spezzettata, e collegabile però a cose ben precise. Allora, nel capitolo 2 di Alice, c'è lei che a un certo punto, non sa se sta sognando o no, dice, beh, vediamo se io mi ricordo la matematica, così, per essere sicura che sia davvero io. Allora, 4 per 5 fa 12, 4 per 6 fa 13, 4 per 7, ocello, non arriverò mai a 20 di questo passo. Allora, qui non viene, nel libro non viene data nessuna spiegazione di che cosa succede. C'è riuscito, forse, questa è una buona proposta che è stata fatta nel 1952 da un filosofo, il quale dice, ma i calcoli possiamo interpretarli pensando a basi diverse, 4 per 5 è 20, cioè 12, se prendiamo la base 18, 4 per 6 è 24, ovvero 13, se prendiamo la base 21. Allora, possiamo proseguire, e tutti i calcoli funzionano fino ad arrivare a 19. Le basi crescono andando in progressione aritmetica di 3. Effettivamente non riusciamo ad arrivare a 20. Tutto il meccanismo funziona fino al 19, fino al 19, al 20 non funziona più. è un'interpretazione che è stata data quasi un secolo dopo che è stato scritto il romanzo, quindi questa cosa qui dà un po' da pensare, in un romanzo per bambini, diciamo così, ci sono delle cose di questo genere. Un altro esempio interessante, questa a me piace, è una cosa che piace molto, dunque, i numeri negativi. Noi adesso insegniamo ai nostri ragazzini i numeri negativi e gliele diamo come delle cose abbastanza naturali. Sono numeri negativi, sono numeri con un segno o meno davanti, seguono certe regole, e sono così. Se noi andiamo a vedere la matematica all'inizio dell'Ottocento, troviamo delle cose strane, troviamo parecchi autori importanti che si rifiutavano di considerare i numeri negativi come qualcosa di giusto. e in effetti avevano ragione loro, non avevano torto, perché i numeri... Tra l'altro, io non ho l'orologio avanti, Franco, se mi dici poi quando mi dai un segnale, quando sono verso la fine, mi fai un favore. In effetti, se guardiamo i manuali dell'epoca, la definizione di numero negativo era una cosa senza senso, perché c'è un numero negativo e una quantità meno di niente, oppure una quantità che si ottiene sottraendo una quantità più grande e da una più piccola, che non significa un granché. E allora si facevano molti esempi con debiti e crediti e cose di questo genere. Però ovviamente la cosa non stava in piedi logicamente. Ora, immaginate Carroll che era una persona logica che si era formato su Euclide. Euclide all'epoca veniva considerato non solo un trattato di manuale, ma un trattato di come pensare in maniera corretta. Questa ovviamente era una cosa sensata. Allora, dentro Alice noi troviamo tre esempi almeno sui numeri negativi. Nel tè del cappellaio matto, ad esempio, questo l'ho dovuto mettere in inglese perché le traduzioni italiane non riescono assolutamente, qui ci vuole la sintesi inglese. Io faccio una traduzione letterale perché allora la lepre Marzolina dice prendi più tè e Alice dice ne ho avuto ancora niente, finora ne ho avuto niente, quindi non ne posso prendere più. Beh, dice, ne puoi prendere più, il problema è prenderne meno. Cioè, più di niente, sì, meno di niente, non ha senso. Quando c'è la discussione fra la pseudotartaruga de Mocktartel e il grifone, c'è un altro esempio, anche lì ci sono dei giochi di parole, pieno di giochi di parole, infatti le traduzioni non rendono l'idea. Quante ore di lezione avevate ogni giorno, chiede Alice, perché questi due personaggi in realtà rappresentano, possiamo immaginare che rappresentino due da come parlano, dal tono, da quello che dicono, sono in qualche modo la rappresentazione di due studenti più vecchi che hanno già fatto qualche anno, insomma, spiegano ad Alice come funziona la scuola. Possiamo pensare che Alice, in effetti, per tanti aspetti, è come se Alice fosse una grande scuola piena di professori pazzi e studenti, e compagni pazzi anche. Allora, quante ore di lezione avevate? Beh, dice, il primo giorno ne avevamo dieci, poi ne avevamo, il giorno dopo ne avevamo nove, poi il giorno dopo, e poi come facevate il dodicesimo giorno quando ci sarebbe stato meno un'ora di lezione? Perché il grifone che stava parlando prende e taglia, cambia discorso, perché come evidentemente facevano i professori quando si diceva, ma che significa meno di niente? Ma non importa, lo capirai. Terzo esempio, alla fine del Through the Looking Glass le fanno l'esame da Alice, arriva in fondo alla scacchiera, diventa regina e le viene fatto un esame dalla regina rossa, dalla regina bianca. Allora, sei fare, esame di matematica, sei fare l'addizione, uno, quanto fa? Uno, 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 ah non lo so, dice Alice, ho perduto il conto, ah non sai fare l'addizione, non sai fare l'addizione, la sottrazione togli 9 da 8, beh, finisce Alice. Immaginate una ragazzina intelligente che dico, togli 9 da 8, beh, dicevo 9 da 8 non si può, ah allora non sai fare la sottrazione. Qua c'è un inciso, perché tra l'altro c'è una presa in giro che viene fatta sui diversi, i vari rami dell'aritmetica, l'aritmetica adizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, i vari rami dell'aritmetica nel Paese e le meraviglie, ambizione, distrazione, aglification, imbruttimento e derisione. Questi sono i giochi di parole di Carol. Quando incontra Twiddledum e Twiddledee, ci sono diversi, lì a questo punto Carol si scatena, Alice sta andando per strada e continua a trovare delle frecce, frecce doppie, una dice la casa di Twiddledee e l'altra dice la casa di Twiddledum. E sono tutte affiancate e ogni volta indicano la stessa direzione. Beh, dice Alice, alla fine probabilmente i due abitano nella stessa casa. Questo è un problema per chi si occupa, per chi si interessa un po' di logica, è un problema interessante. Definizioni diverse che indicano la stessa cosa che è una cosa normale poi che capita in matematica. Qui c'è un'altra cosa, un'altra cosa abbastanza interessante. Alice è un sogno, è un sogno in cui ci sono delle persone che provano a convincere Alice di varie cose, le fanno dei ragionamenti, eccetera. Allora, se andiamo a vedere un testo che Carol possedeva di De Morgan. De Morgan era un pensatore importante per la storia della logica e in generale per la matematica, la scienza inglese dell'inizio dell'Ottocento. Nel suo formal logic lui dice non è impossibile, esce questa frase dal punto di vista logica moderna è una follia, però la logica inglese dell'epoca era un po' Carol era il più strano in questo senso, però anche gli altri dicevano delle cose a volte. Allora, non è impossibile che in a real dream or sleep in un vero sogno durante il sonno qualcuno possa creare un antagonista, io sto sognando, crea un antagonista che mi fa degli argomenti e mi batte in un argomento per provare che io sono sveglio. Beh, in effetti quando in The Looking Glass lei trova il re rosso il re rosso sogna e sta sognando Alice Alice dice ma sono io che sto sognando in effetti poi alla fine si scopre che è Alice che sta sognando lui ma la cosa non è mai chiarita del tutto e ci sono Tweedledum che le stanno spiegando questa cosa del sogno e le dicono vedi dice tu devi stare attenta perché sei nel suo sogno per cui se lui si sveglia tu sparisci e lei si mette a piangere dice ma io sono vera Alice non è così che non è che se ti metti a piangere ci convinci che sei vera ma se non fossi vera dice Alice non potrei piangere ah beh spero che non crederai spero che queste siano lacrime vere sei parte di un sogno allora vedete di nuovo ci sono tanti rimandi Carol tra l'altro sappiamo che sappiamo che aveva aveva una passione per De Morgan ci sono diversi collegamenti con De Morgan qui c'è un testo che aveva citato la professoressa prima ma è famoso anche quello perché c'è Antidanti che parla con Alice l'uovo tanto per intenderci del cartone animato di Disney e delle illustrazioni parla con Alice e le dice e dà delle spiegazioni le dice delle cose abbastanza folli fra cui dà delle spiegazioni strane una delle cose che dice a un certo punto usa le parole in un significato suo e Alice obietta questa cosa ma secondo me queste parole non hanno questo significato ah beh dice Antidanti io uso queste sono io che uso queste parole io decido che queste qua hanno questo significato quando Carroll alla fine della sua vita due anni prima di morire ha pubblicato il Symbolic Logic che in realtà doveva essere la prima parte di un trattato in tre parti e lui lo dice questa cosa la dice questa volta la dice seriamente dice io sostengo e qualsiasi scrittore mi ha autorizzato ad assegnare il significato che preferisce ogni parola o frase che intende usare se trovo un autore che dice conveniamo che la parola nero significa bianco e bianco significa nero a me può sembrare una cosa un po' folle però io l'accetto qui tra l'altro apriamo una parentesi perché è interessante il rapporto fra Alice e fra Carroll e la logica allora noi sappiamo che lui pubblicava Carroll che era Dodgson pubblicava i suoi testi di matematica sotto il suo vero nome e i testi fantastici diciamo così li pubblicava sotto il nome Carroll la cosa interessante è che quando lui scrive delle cose di logica scrive anche dei testi seri delle cose che pubblica su riviste logica lui si firma Carroll e questa è una cosa abbastanza folla cioè lui in qualche modo vedeva un legame fra i suoi testi di logica testi accademici e le cose che aveva scritto su Alice la seconda cosa interessantissima è che lui ha fatto delle cose importanti per la logica almeno per esempio Bertrand Russell le considerava importanti quindi possiamo considerarle importanti anche noi queste cose sono successive ad Alice cioè non è tanto l'impressione guardando le date non è tanto di un logico che a un certo punto si mette a scrivere un romanzo ma quanto di uno che aveva un qualche interesse un po' così che doveva germogliare ancora sulla logica e dopo aveva scritto il romanzo comincia a interessarsi sul serio di queste cose le dilatazioni di Alice Alice all'inizio del romanzo si beve delle cose e si dilata io ricordo di aver letto anni fa c'era una psicologa che aveva dato delle interpretazioni diceva che Alice che si dilata rappresentava l'organo sessuale di Carol io non lo so io non mai psicanalizzare le psicanaliste per chi si occupa di matematica la cosa è un pochettino più semplice Carol Dodson aveva scritto aveva scritto un testo su Euclide sull'interpretazione di Euclide in particolare sul quinto e sesto libro di Euclide cioè i testi in cui si parla sostanzialmente delle dilatazioni e se uno va a vedere i suoi altri libri noi troviamo diverse cose sulle dilatazioni cioè un interesse comune per i matematici per quelli che si interessano di geometria lui ci scherza parecchio negli altri testi in Silvia Embruno lui fa l'ipotesi c'è il professore tedesco che dice noi abbiamo realizzato una mappa volevamo farla estremamente precisa allora abbiamo usato la scala 1 a 1 un chilometro per un chilometro il problema è che la mappa non potevamo dispiegarla perché ci avrebbe coperto il territorio allora l'abbiamo buttata via abbiamo usato il territorio come mappa e funziona ottimamente e poi c'è la mappa la mappa opposta nel poemetto The Hunting of the Snark c'è la mappa con zero segni perché sono su una nave in mezzo al mare in mare non c'è nulla per cui non ci sono c'è questa mappa che è completamente bianca è più semplice tanto cosa deve indicare siamo in mezzo al mare non abbiamo bisogno di andare a leggere tutti quei simboli strani questi simboli del resto sono solo segni convenzionali questa cosa dei segni convenzionali potrebbe essere possiamo discutere ma potrebbe essere una ci sta ci sono degli autori che l'hanno pensato un'interpretazione una manca ancora c'è ancora un po' di tempo sì potrebbe essere in qualche modo una una cattiveria verso alcuni matematici dell'epoca il quale tendevano a mettere in evidenza gli aspetti convenzionali dell'algebra l'algebra non è un metodo per contare è una serie di convenzioni è praticamente come se avessimo inventato un linguaggio e questo linguaggio noi lo possiamo adattare ad altri casi Bull quindi per esempio l'aveva applicato non moltissimi anni prima l'aveva applicato alla logica alla logica aveva fondato la logica matematica i personaggi in Alice parlano per sillogismi serpente strillò il piccione ma io non sono un serpente ma sai che sei un serpente ma non sono un serpente sono una sono una ragazzina ah lo vedo che stai cercando di inventare qualche cosa dice figurati se sei una ragazzina Alice si è dilatata quindi avete presente la figura di prima è allungata non ho mai visto una ragazzina con un collo del genere tu sei un serpente sillogismo nessuna ragazzina ha il collo così lungo tu hai il collo lungo dunque tu non sei una ragazzina in che senso è pazzo il piccione in che senso si trova Alice è una ragazzina normale che si trova in un posto dove sono tutti che ragionano secondo logiche matematiche diciamo così ma poi bisogna chiarire un po' questo matematico va inteso in un senso un po' ampio completamente folli serpenti e uova sempre continua il dialogo tu sei un serpente scommetto che mi dirai adesso che non hai mai assaggiato un uovo perché il piccione ha paura che Alice mangi le sue uova ho assaggiato delle uova certo ma anche le ragazzine mangiano le uova come i serpenti non ci credo però se le ragazzine mangiano le uova allora sono una specie di serpenti devo per forza concludere silogismo tutti i serpenti mangiano le uova tu mangi le uova dunque tu sei un serpente ovviamente è un silogismo sbagliato ma è il tipo di in questa forma qui è il silogismo aristotelico che veniva insegnato nelle università all'epoca il Jabberwocky la poesia potrebbe essere vista anche qui non andiamo troppo nel dettaglio è tutto fatto di parole inventate ma il Jabberwock il charlestrone qua c'è la traduzione una delle traduzioni italiane e non viene mai detto che cos'è questa potrebbe essere vista come una definizione implicita di un neologismo noi nel romanzo sappiamo che abbiamo un'idea di che cosa sia perché c'è l'illustrazione di di Tegniel quindi visualizziamo la situazione come un mostro però in qualche modo è una sovrapposizione al testo allora arriviamo un pochettino cominciamo a arrivare un po' alla conclusione noi abbiamo un testo con tanta logica chiamiamola logica matematica perché funziona come questo qui è un libro per ragazzi perché dovrebbe funzionare come un libro per ragazzi in realtà ci sono tantissimi motivi Carol scrive bene Alice non è una morale aveva detto Bertrand Russell è stato detto anche prima è un testo realistico in realtà tutti i personaggi in qualche modo sono delle deformazioni di personaggi di personaggi reali perché tutta questa collezione di follie tenuta assieme dalla personalità forte di Alice Liddell che era una ragazzina molto con un carattere molto forte lo si vede nelle foto che vedremo fra poco probabilmente e poi ci sono i vari motivi di tipo più matematico diciamo più legati la matematica primo perché Alice è la storia di una ragazzina che è normale che entra in una scuola dove i professori sono tutti pazzi e i compagni anche e poi perché la logica che c'è in Alice nel Paese delle Meraviglie è una logica di significato i paradossi sono in qualche modo legati al significato ci sono delle parole che sono ambigue perché significano cose diverse allora questa qui è un tipo di paradosso matematico che sta fra due aspetti diversi da una parte l'aspetto serio cos'è la definizione cosa definisce una definizione esattamente dall'altra è una cosa che un ragazzino può capire i giochi verbali i paradossi verbali Alice che si arrabbia perché le dicono delle cose che significano delle altre sono comprensibili ai ragazzini quindi qui è una chiave di lettura se poi noi passiamo da Alice passiamo agli altri lavori di Dodson noi troviamo Dodson, Carroll noi troviamo ritroviamo delle cose simili a quelle che abbiamo trovato in Alice cioè facciamo un esempio Tangle Tale è una collezione di problemi di matematica sono problemi di matematica che però sono raccontati come una serie di racconti ogni problema diventa un capitoletto illustrato cioè una collezione di problemi di matematica strani è spiegata come un racconto cioè da una parte abbiamo un racconto prima avevamo un racconto con della matematica dentro matematica logica dall'altra abbiamo matematica che diventa un racconto The Game of Logic The Game of Logic è una stranezza è una collezione di sillogismi pubblicata in un libretto che Carroll voleva che spiegasse vedete che l'ha pubblicato sotto il nome Lewis Carroll ed è un libro di logica però e lui voleva che questa cosa qui insegnasse ai ragazzi a usare i sillogismi logici e però gli esempi che fa sono abbastanza folli questo qui che metto che ho messo l'ho messo in inglese di nuovo perché se no è traducibile All dragons are uncanny uncanny è traducibile come inspiegabile prodigioso è uno dei tanti aggettivi inglesi per indicare lo strano gli scozzesi sono kenny guardinghi cauti quindi kenny e uncanny anche se uno sembra uncanny sembrerebbe non kenny e qui quindi c'è un gioco di parole la conclusione i draghi non sono scozzesi gli scozzesi non sono dei draghi quindi qua è logica ma dall'altra parte ci sono dei giochi di parole gli altri giochi di parole che ci sono sono altrettanto folli tutti i gatti capiscono il francese alcuni polli sono gatti alcuni polli capiscono il francese sono quasi tutti così potrei potevo riprodurli tutti erano quasi tutto lo stesso livello qui c'è un'altra un'altra stranezza Carroll allora domanda Carroll era un grande matematico no allora no di sicuro un grande matematico no un logico molto interessante sì sulla esattamente sul livello del suo valore come matematico come logico i giudizi anche da persone molto molto competenti divergono parecchio qui c'è un caso un esempio lui aveva scritto questo libretto che sono i pillow problems letteralmente i problemi del cuscino cioè lui soffriva di insonnia lo dice si svegliava di notte e allora si metteva a pensare dei problemi di matematica li risolveva a mente e poi l'indomani si svegliava li trascriveva non inventa 72 sono tutti problemi interessanti il 72esimo problema è un problema di calcolo delle probabilità problema è l'ultimo una borsa contiene due gettoni di cui non si sa nulla eccetto il fatto che ciascuno è bianco e nero determinare il loro colore senza estrarli dalla borsa problema totalmente folle allora ci sono alcune persone che sono esperti di calcolo delle probabilità esperti di Carroll anche che hanno detto ma Carroll doveva essere cioè non so gli aveva dato di volta al cervello perché non si può proporre una cosa di questo genere è chiaro che come matematico non valeva nulla in realtà il dubbio è che questo qui sia uno scherzo cioè Carroll ha fatto un libro di problemi di matematica e l'ultimo problema è uno scherzo di fatto ci sono delle mezze frasi nelle mezze parole nelle introduzioni che possono essere lette in questo modo però anche qui diventa una cosa un pochettino strana uno fa un libro di matematica e ci mette un problema senza dirlo che in realtà perché lui dà poi la soluzione che io ho trovato anche un articolo di uno che sostiene ma è uno che viene da un paese da un posto strano non l'ho mai sentito lui sostiene che la soluzione di Carroll è giusta lasciamo perdere credo di non avere più molto tempo comunque stiamo andando verso la fine Carroll ha pubblicato alla fine negli ultimi dieci anni di vita pubblicava delle cose di logica serie ci sono due articoli che ho pubblicato sulla rivista Mind che era una rivista serissima una delle fonti forse la fonte fondamentale per la logica inglese della fine dell'ottocento e lui ha pubblicato un paradosso che di nuovo Bertrand Russell ha considerato non banale l'ha discusso e ha detto che secondo lui era un problema vero che andava studiato e risolto in modo non banale beh questo argomento molto serio sul fatto su come devono che collega una serie di argomenti se c'è anche il regresso all'infinito sono una quantità di cose molto tecniche è un dialogo nelle opere di Carroll viene messo come un racconto perché è la forma di un racconto tra l'altro piacevole da leggere Achille e la tartaruga hanno finito la corsa si mettono a chiacchierare e Achille ha battuto la tartaruga sulla corsa però a questo punto la tartaruga batte Achille sulla logica e si mettono a discutere su questo problema ultima cosa poi penso di aver veramente finito il mio tempo c'è il problema dei tre barbieri il problema dei tre barbieri di nuovo è stato messo sotto forma di un raccontino cioè c'è il protagonista che è un ragazzo di 15 anni che racconta quello che diceva suo zio Joe io qua ho messo l'inizio del racconto ci sono dei giochi di parole abbastanza terrificanti insomma perché lui il ragazzino viene chiamato cub il cucciolo e quindi ci sono dei giochi di parole assurdi l'equazione cubica però con due b insomma cose terribili però detto tutto questo il paradosso logico è un paradosso vero cioè Russell ha dato una soluzione a questo Carroll la propone non dà una soluzione Russell ha dato una soluzione ma questa soluzione è stata contestata ancora negli anni 50 c'era gente che io non sono un espertissimo di logica ma ancora negli anni 50 c'era gente che pubblicava articoli discutendo questo questo paradosso che non è per nulla banale quindi adesso credo che si ritenga risolto però in ogni caso è un punto di logica che è tecnico ma che qui viene messo sotto forma di un di un raccontino con tre barbieri appunto che è una cosa abbastanza abbastanza inusuale io penso che possiamo terminare qui la chiacchierata grazie 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 grazie